Tutto è zero? Tutto è zero. Allora, dove arriviamo con zero? Con zero non arriva a niente. Certo? Sei d'accordo? Per questo bisogna mettergli qualcosa. E questo qualcosa? Che cos'è questo qualcosa? È Krishna. Solo Krishna può dare il valore. Alla tua esistenza. Così come il corpo senza acqua. Puoi immaginare un corpo di un essere umano senza acqua? Lo potete immaginare voi, un corpo di un essere umano senza acqua? Un piccolo pacchetto di un piccolo pacchetto di non si sa che cosa. Il 90% è l'acqua del corpo. Il 90% del corpo è fatto d'acqua. Immaginatevi noi senza l'acqua. Non esistono arvoli senza acqua. Non ci sono neanche alberi senza acqua. Non esiste comida senza acqua. Non esiste cibo. Non esiste vita senza acqua. Non esiste allegria senza acqua. Allegria non esiste senza acqua. Per questo l'acqua è sacra. Per questo l'acqua è sacra. Siete d'accordo? Stiamo facendo qualcosa di rispettoso. Stiamo facendo qualcosa per questo. Stiamo facendo qualche tributo all'acqua. Lo minimo che dobbiamo fare è cantargli il nostro ringraziamento. E cantargli i nostri ringraziamenti. E cantargli la gloria del Signore. Parece che già terminò il viaggio. Pare che già finito il viaggio. Io vi racconto qualcosa. Il Titicaca in comparazione a questo lago è come se questo lago fosse una goccia e il Titicaca è tutto il resto. Igualmente è molto bello questo lago. Però non può competire con il Titicaca. Però non può competire con il Titicaca. E nel Titicaca c'è un'isola che si chiama Shantidwip. Che si chiama Shantidwip. Allì ci sono i devoti. E se voi li volete conoscere. C'è un video su YouTube dove dice Titicaca Krishna e immediatamente sale questa pellicola. Dovete scrivere Titicaca Krishna e vedete questo video che esce. E rimarrete molto felici di questo. E anche nel Titicaca ci facciamo il bagno. Se qualcuno si vuole bagnare e fare il bagno adesso approfittate. No, no. Senta. Sì, no. Pelinio? Sì, sì. Mamita? No, no. I bambini sì e le mamme no. Mamma mia! Sì, no, me lo dico il divieto di bagnazione. Dice salata di gantia il divieto di bagnarsi perché sono fatta mucha gente con coriente rara, non so che. Coriente sotto. E che cos'è? Coriente sotto.